Paola Di Cesare, l'estate della palestra Fisiopro è stata caratterizzata anche dall'ospitalità di un progetto con il motociclismo, un camp internazionale organizzato dalla Will Sport. Una nuova esperienza di crescita per voi? La nostra caratteristica principale è sempre stata l'apertura, la collaborazione e la voglia di crescere. In questo caso non ci siamo ovviamente fatti scappare questa occasione, prima di tutto per il rapporto di stima, di amicizia e di collaborazione con il professor D'Artibale. E secondariamente per quella che è, come dicevo prima, proprio la voglia di sperimentare e di inserire nuove attività, nuovi settori in modo da rendere la nostra offerta sempre più ampia per tutte quelle che sono le attività che si svolgono in regione perché non dobbiamo dimenticare che il movimento motociclistico a livello molisano rappresenta comunque una notevole realtà. A proposito di novità per Fisiopro, la nuova stagione che si apre a settembre, quali novità porterà? Oltre all'ambito sanitario che ovviamente è in continua crescita con l'inserimento di nuove specializzazioni, nuove apparecchiature, tra comunque gli ultimi ritrovati all'avanguardia per tutto il discorso sia diagnostico che terapeutico, l'ambito prettamente rivolto allo sport, alla preparazione fisica e all'assistenza di società sportive, squadre, è in continua evoluzione con nuovi contatti non solo nella palla a volo e nel basket, come ormai siamo già noti nel settore, ma anche in nuove discipline sportive come la danza, la ginnastica ritmica e appunto anche il motociclismo. In più ci saranno nuovi spazi dedicati ad altre attività che invece saranno rivolte ad un altro target, quindi anche terza età, disabili, quindi con l'inserimento di un gruppo di preparazione e di allenamento per provare ad allestire anche a Campobasso una squadra di sitting volley, dove ovviamente Antonella è inserita nel club della nazionale italiana, quindi stiamo provando a portare a Campobasso nuove attività, nuove specializzazioni, come dicevo prima, rivolte a un target sempre più ampio. Un'ultima domanda per quanto riguarda proprio il tuo ambito, quindi la fisioterapia oggi si lavora sul post-infortunio, ma anche e soprattutto sulla prevenzione sull'infortunio, quindi eventualmente evitarli proprio. Sì, sì, proprio in quest'estate abbiamo seguito due ginnaste che hanno partecipato al Gym Camp nazionale, sviluppando dei programmi di prevenzione perché le ragazze si sarebbero trovate ad affrontare allenamenti molto duri, con sedute di anche 8-9 ore al giorno, quindi questa è proprio fresca fresca l'ultima esperienza del mese scorso. Per quanto riguarda invece tutti gli altri settori, come dicevi giustamente tu, ormai non si parla più tanto di terapia perché teoricamente non si deve arrivare alla terapia, in modo tale che gli atleti possano essere sempre più tutelati e sempre più a disposizione delle società. E proprio in questo ambito stiamo sviluppando nuovi protocolli di lavoro, principalmente nella pallavolo dove abbiamo già dei gruppi di studio da diversi anni, ma come ho già detto prima, anche in altre discipline, in modo tale da andare anche a verificare quelle che sono le nostre metodologie e comunque le indicazioni degli specialisti che seguono i nostri atleti.